Natale 2012 Carissimi popolo, io sono una donna piena di vita e prego tutti i giorni che questo mondo riuscisse ad essere più umano e buono ci sono tante persone che pensano solo a loro e questo a me non mi piace e non mi sta bene siamo tutti figli di Dio, di tante cattiverie non ci può sopportare più quindi per andare incontro a Dio dobbiamo essere tutti uniti e pregare con la mano sul cuore per incominciare il 2013 migliore se qualche persona di politica, quelli che io vedo per televisione che ci prendono in gira tutti i giorni la sera quando fanno la politica mi fanno nervosire tre, quattro parole giusto per loro perché usati non credo di giuno è fatto loro, stanno troppo bene invece io dico a loro di convertirsi e augurare veramente un buon Natale a tutti noi io, ma cazzo ho sbagliato, perciò io mi sbaglio ho fatto zio, nonna nannina io, nonna nannina faccio i miei sinceri auguri a tutte le persone che mi vogliono bene e a voi amici di Facebook ai miei nipoti Pasquale, Francesco, Daniele e Maddalena un auguri sinceri anche a Nausica e a Ursula faccio tanti auguri anche ai miei nipoti lontani di Torino Maria e Antonio, Lisa e Luca vi raccomando la Messa a Natale in questo giorno di feste onoriamo la nascita di bambino Gesù auguri di buon Natale a nonna nannina di felicità di vento portale di un canto di con la vita e con la noi buon Natale i felicità non avvita complet